Ciao ragazzi, bentrovati e oggi finiremo di vedere quanto avevamo iniziato la scorsa volta, cioè il regno di Carlo Magno e poi l'età carolingia in generale. Allora, Carlo Magno diffonde il cristianesimo, sì, perché se vi ricordate, l'avevamo già detto nella scorsa lezione ma anche a scuola, che durante il regno di Carlo Magno le sue conquiste territoriali andavano di pari passo con le conversioni, perché appunto Carlo Magno obbligava le popolazioni conquistate a convertirsi al cristianesimo, anzi al cattolicesimo, e quindi in questo senso è molto importante l'azione dei monaci e dei missionari che attuarono un'opera capillare di evangelizzazione. E quindi la religione cristiana diventa un po' il collante dell'impero, perché se vi ricordate avevamo detto che l'impero di Carlo Magno comprendeva popolazioni che per lingua, culture e tradizioni erano molto diverse, e quindi in questo caso la religione diventa l'elemento comune tra questi popoli. E gli avari e i sassoni sono stati i più difficili da conquistare, se vi ricordate erano quelle popolazioni che proprio Carlo Magno per ultime riesce ad annettere al suo vasto impero, anche perché sono state le più difficili da convertire, quindi da far diventare cristiane, perché erano molto attaccate ancora alla propria religione paganea e alle proprie tradizioni. Quindi la cristianizzazione, oltre che essere la colla che teneva insieme un po' tutti i diversi popoli dell'impero, è stata importante anche perché, perché chi si convertiva si avvicinava agli usi ai costumi e alla cultura che Carlo Magno e i re prima di lui avevano ereditato ancora dall'impero romano. E anche perché? Perché era una sorta quasi di controllo, prendete questa parola con le pinze, però il cristianesimo cercava di eliminare i residui delle tradizioni pagane, ovvero di quelle religioni politeiste o comunque che ancora erano diffuse tra le popolazioni germaniche, e serviva anche per uniformare i comportamenti della popolazione. Che cosa vuol dire? Vuol dire che attraverso gli insegnamenti morali della Chiesa si cercava di spiegare alle persone ciò che era bene e ciò che era male, si indicavano i vizi da evitare, le virtù invece da imitare, o per esempio anche il matrimonio viene cristianizzato, inizia ad essere diciamo un sacramento come lo è tutt'oggi, invece per esempio presso i popoli pagani c'era molta più libertà, infatti erano frequenti magari unioni temporanee e assolutamente non esistevano vincoli indissolubili. Inoltre un ruolo molto importante lo giocarono anche i vescovi, ricordatevelo perché questo scontro tra i vescovi o ancora di più il papa e l'imperatore tornerà anche nei secoli successivi, ma in questo momento perché i vescovi diventano così importanti? perché agiscono da veri e propri funzionari del re sorvegliando l'operato dei duchi, vi ricordate i famosi misti dominici? Spesso i vescovi avevano questa funzione, cioè di controllare che i duchi si comportassero in maniera corretta nei confronti del re. fungono da ambasciatori diplomatici perché essendo anche gli uomini più colti del loro tempo, perché erano gli ecclesiastici coloro che avevano la possibilità di studiare di più, conoscevano il latino o anche altre lingue straniere, spesso venivano utilizzati dall'imperatore come appunto ambasciatori nei regni vicini per trattare questioni diplomatiche. E partecipano alle guerre. Oggi ci sembra strano ma effettivamente era così. Spesso i vescovi partecipavano sia come cappellani dell'esercito ma anche come veri e propri cavalieri perché la maggior parte delle volte chi riusciva ad arrivare alle alte cariche ecclesiastiche faceva anche parte già di famiglie nobili aristocratiche importanti. Ma ora vediamo come dopo la morte di Carlo Magno purtroppo il grande impero da lui costruito si disgrega. Perché se vi ricordate quando avevamo parlato della società feudale avevamo detto che per i franchi e quindi anche per Carlo Magno i territori dell'impero o comunque di un regno erano considerati possedimenti privati dell'imperatore, cioè erano una sua proprietà. Non esisteva ancora un concetto di stato sovrano che sta sopra tutti e quindi alla morte l'imperatore poteva lasciare in eredità a tutti i suoi figli i suoi territori, quindi tutti i territori dell'impero. Perché questo? Uno potrà chiedersi, ma di solito non era il primogenito che ereditava tutto. Sì, poi sarà così, ma all'epoca di Carlo Magno era ancora in vigore la legge salica. Che cos'è la legge salica? Era una legge medievale, secondo cui il figlio primogenito, cioè il primo che nasceva, in realtà non aveva più privilegi degli altri. Non aveva privilegi particolari rispetto agli altri figli nati dopo di lui, quindi erano tutti allo stesso livello e perciò avevano tutti lo stesso diritto di ereditare ugualmente i territori del padre. Quindi l'impero viene diviso. Alla morte di Carlo non ancora, perché Carlo Magno muore nell'814, ma Carlo Magno ha avuto una vita molto lunga, ha avuto molte mogli e moltissimi figli, però dei quattro figli legittimi che Carlo aveva avuto ne rimaneva in vita solo uno, Ludovico il Pio, quindi per il momento l'unità dell'impero era salva. Ma non fu così fortunato Ludovico, perché alla sua morte lui aveva tre figli. C'è da ricordare che durante il suo regno Ludovico non ha portato avanti grandi battaglie, infatti i territori dell'impero non si sono estesi ulteriormente, ha cercato più che altro di riorganizzarlo. Però nell'840, quando muore, l'impero viene diviso tra Lotario, Carlo, detto Carlo il Calvo, e Ludovico, detto poi Ludovico il Germanico. Guerra. Guerra perché? Perché ovviamente, purtroppo, dalla morte di Ludovico il Pio, i suoi figli iniziano subito a scatenare feroci guerre per il potere, appunto, e queste guerre terminarono tre anni dopo con il Trattato di Verdun. E qui abbiamo appunto la divisione dell'impero che si ebbe al termine di queste guerre, quindi in rosa abbiamo i territori di Ludovico il Germanico, in giallo abbiamo i territori di Lotario, che essendo il primo genito ereditò in più rispetto ai fratelli solo il titolo di imperatore, quindi che comprendono questa striscia tra Francia e Germania e l'Italia centro-settentrionale, e poi il regno di Carlo il Calvo, che più o meno potremmo associarla all'attuale Francia. In particolare furono Carlo e Ludovico ad allearsi contro Lotario, che appunto aveva ereditato il titolo di imperatore. Questo documento è molto importante perché è il Trattato di Pace di Strasburgo ed è molto importante perché questo giuramento di Strasburgo. È un giuramento in cui Carlo e Ludovico si giurano fedeltà reciproca contro Lotario. E perché è importante? È importante perché i documenti ufficiali nel Medioevo venivano scritti in latino. Questo invece è il primo esempio di un documento ufficiale scritto in due lingue volgari, perché per farsi capire dai rispettivi eserciti, Carlo il Calvo giurò in antico tedesco, per farsi capire appunto dall'esercito di Ludovico, e Ludovico invece giurò in francese. E ovviamente appunto l'impero risentì della divisione dei suoi territori, del fatto di essere stato così frazionato. E inoltre ciò fu aggravato dal fatto che il potere dei sovrani era sempre più debole perché nessuno dei discendenti di Carlo Magno aveva la sua stessa autorità, né politica né militare. E anzi, purtroppo, i sovrani, per conservare la fedeltà dei nobili e dei cavalieri e per impedire che venissero traditi, concedevano loro sempre maggiori privilegi. E questo fu la causa della fine dell'impero carolingio, ovvero dell'impero creato da Carlo Magno, nell'887, quando viene deposto dai grandi signori aristocratici, quindi dai grandi feudatari, Carlo il Grosso, che era figlio di Ludovico il Germanico. E quindi il grande impero creato da Carlo Magno ha fine e si divide in realtà in cinque regni autonomi. Ed eccolo qua. Cioè la Francia, la Germania, la Provenza, la Borgogna e l'Italia. E questo è tutto. Ci vediamo alla prossima. Ciao ragazzi!